buongiorno a tutti ragazzi questa è un'altra mappa sempre di call of duty black ops multigiocatore e si chiama crisis come potete vedere questa è di dimensione media allora ragazzi aggiungeteci l'index z se volete entrate anche nel nostro clan itx e io fabri quello che è con me allora ragazzi iniziamo la partita vi spiegheremo la mappa arrimina ti vieni non ci posso stare e mi mancano da qualche scelta non ci sto parlando di voi 5 secondi dai esci vieni ecco finito puoi fare facebook così almeno va più veloce dopo ci rienti su un miscissimo fai bene no veloce dai che è iniziato aggiungeteci anche su facebook allora ragazzi come vi ho detto prima questa è una è medio piccola è una mappa medio piccola così perfetta allora qui da quando è che non c'entravo qui si può entrare perfettamente il scopato che gli ho fatto allora questa macchina non si può distruggere questa invece si allora dopo saliamo sopra la torre non mi fa salire allora qui questa è la torre che se siete a veterano vi buttate e morite di sicuro allora qui è un posto perfetto per camperare qui voi appena vedete prendete uno e sparate e l'ammazzate subito dopo ci buttiamo se avete leggero leggero però altrimenti morite subito dopo dopo un po' il cazzo fai cazzo fai cazzo fai cazzo fai così devi fare perchè ma distrutto il coso allora continuando qui si può salire aspetta prima facciamo vedere la guarda la casa così così allora 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 qui si può salire si scusa allora qui se volete si può anche salire sopra le sedie e se ci incerti e distruggi da una parte che dopo vi farò vedere si può salire ah guardate questo pure si può stare qua dentro dopo si può salire qua sopra una una specie di trucchetto che si può fare e questo di salire qui dopo qua e siamo sopra il tetto ah pure così si potrebbe fare si così come ho fatto ora e qui è perfetto per camberare così dopo possiamo andare qua ah dove eravamo eravamo arrivati in questa parte della mappa qui si può salire sul tetto da qua sopra come vedete guardate saltiamo x x e saliamo qui un'altra corsa allora allora continuiamo e sono arrivati qua vediamo che si può salire là sopra forse si potrebbe salire anche in quell'altro tetto no no non si può si fa volare i suoi allora dopo questa è un'altra macchina ma è come si chiama macchina che si rompe questo prende a fuoco si si può cambiare anche sopra sopra la macchina come dice lui dopo dai prendi giusto eeeh dopo qui abbiamo visto questa parte adesso andiamo dalla parte avversaria scusa scusa allora eeeh rcxd alleato in arrivo dopo qui non c'è più niente qui non si può salire dopo continuando eeeh qui c'è anche nasceterà qui da questa parte si può stare qua come vedete eeeh eeeh e se andate qua come vedete si potrebbe stare pure a camberare qua c'è anche una scala eeeh eeeh e se andate qua si potrebbe stare pure a camberare qua eeeh no scusa oh mi può ammazzare tu che non c'è munizioni allora qui poi c'è l'acqua che va a finire fino a un certo punto non potete più andare oltre non potete più andare oltre quindi riprendersela eeeh è meglio di così è meglio di così allora dopo continuando aspetta un attimo eeeh si 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 eeeh così adesso abbiamo di nuovo le munizioni allora come potete vedere siamo di nuovo qua si può andare qui di solito quando iniziano le partite cerchi a distruggire mi metto qua allora dopo qui si può stare bene si può camperare anche dopo qui se c'è la bomba ricerca e distruggi salite qui dopo qui c'è la bomba ci saltate e dopo salite qua sopra non è tanto difficile dopo un altro posto dove camperare è qua eeeh un altro ancora posto è qua qui sotto vi consiglio però di mettervi un po' più al lato eeeh qua dove sono io guarda dove sono io bello qua eeeh qui qui io vi giro la scala oppure dove era lui qui eh questo è un posto perfetto ci sto quasi sempre qui credo che l'abbiamo finita ora la mappa è giusto qui c'è la torre no niente più c'è c'è qui si può salire si vede qui dopo si viene e si ritorna nella casa allora eeeh grazie a tutti ragazzi abbiamo finito la mappa no, non usare il balistico dai che ti faccio una 360 grazie a tutti ragazzi e dalla prossima, aggiungeteci un amico un amico un amico un amico